Dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido, dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extra ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Sabato 11 giugno, alle ore 17, presso il Salone del Museo Storico di Via Gramsci 1 a Voghera, si terrà un evento intitolato Prevenzione, diagnosi precoce dei tumori, dove i cittadini potranno relazionarsi a tu per tu con gli specialisti. Le va di raccontarci come è nata l'idea di realizzare questo evento, da quale tipo di esigenza, come sarà strutturato e qual è la sua finalità. In quest'anno la notizia è ampiamente riportata che il dato statistico dell'aspettativa di vita media dei cittadini italiani si è fermato nella sua crescita e addirittura in certe zone si è ridotto, in particolar modo nel nord-ovest. Sta poi emergendo anche un altro dato, un dato forse ancora più preoccupante, che è quello che riguarda la qualità della vita. L'aspettativa di vita sana sta comunque decrescendo. Aumentano le patologie croniche, aumentano le patologie autoimmuni, le intolleranze alimentari e i tumori. I farmaci aiutano a vivere più a lungo, ma non risolvono i problemi. Possiamo dire che la prevenzione può essere un metodo efficace e che quindi i cittadini devono conoscere quanto è importante, no? La prevenzione è uno strumento fondamentale. La correzione dello stile di vita è alla base del miglioramento della qualità della vita e dell'aspettativa di vita dei cittadini. Per questo la nostra associazione ha deciso di promuovere questa conferenza in cui i medici specialistici daranno i giusti consigli per vivere in modo sano e evitare gravi problemi di salute. Questo evento, che ha come focus la prevenzione dei tumori e la diagnosi precoce, ci permetterà di analizzare come, con il nostro comportamento, potremo evitare patologie anche molto gravi e migliorare la salute e la qualità della nostra vita. Gli ospiti presenti durante la giornata saranno tanti. Con chi potranno confrontarsi i cittadini? Ci saranno presenti dei medici specialisti. All'inizio dirò un io, sono presidente di Vogheraè e sono molto orgogliosa di questa iniziativa che spero sia una delle tante per la salute della popolazione. Inizierò a parlare con il medico di medicina generale in modo generico di che cos'è un tumore. Poi daremo la parola agli specialisti, sono quattro, e ci sarà la dottoressa Sauta, ginecologa, che ci parlerà della prevenzione dell'HPV per le giovani donne e farà anche un accenno al virus Zika, che non è associato a una patologia tumorale, però è molto importante che la popolazione conosca quanto possa essere pericoloso questo virus per il nostro paese. Spero che ci sia il tempo e che possa parlarne. Poi ci sarà la dottoressa Antoninetti, che è una dermatologa, e ci parlerà del melanoma, quindi dei tumori della pelle e dei rischi all'esposizione solare. Ci sarà il dottor Neumayer, che è un radiologo al San Martino di Genova, dove parlerà di due temi importanti, della diagnosi precoce dei tumori della mammella e della diagnosi precoce dei tumori della prostata. Infine ci sarà il dottor Colombi, che è un pneumologo e è stato primario per tempo all'ospedale di Varzi, dove parlerà della prevenzione della diagnosi precoce dei tumori del polmone. I presenti potranno interagire con gli ospiti? Assolutamente, a disposizione per qualsiasi domanda, per qualsiasi interrogativo. Ci saranno anche dei musicisti presenti? Sì, ci saranno due musicisti della chitarra orchestra di Voghera e poi ci sarà anche un rinfresco. Non si tratta soltanto di un incontro formativo, ma anche di un incontro benefico. In un qualche modo l'obiettivo è quello di salvaguardare, salvare l'ambulatorio, aiutare l'ambulatorio di Voghera. È corretto? Sì, l'ambulatorio ha la sede in Via Cognoni, al numero 3, nei locali attivi alla chiesa di San Giuseppe, nell'ambito della parrocchia del Duomo di Voghera. È nato nel 2002 a far fronte alle necessità di quando, trovandosi in condizioni di grave disagio personale, non avevano la possibilità di disporre di un medico servizio sanitario nazionale. Riuscite a far fronte alle necessità e alle esigenze di tutti questi cittadini? Quanti sono questi cittadini? L'ambulatorio è frequentato medialmente da 35-40 persone per volta. Si tratta di italiani e stranieri in difficoltà. Non sempre è possibile, tuttavia, soddisfare le richieste di quanti si presentano in ambulatorio. In medicinale a volte scarseggiano e non sempre è possibile a far fronte alle richieste. Per questo motivo chiediamo ai vogheresi di portare in ambulatorio farmaci che non utilizzano più, non sono ovviamente ancora scaduti, oltre ad attrezzature come stampelle, sedie a rotelle o altro che può servire agli ammalati che si rivolgono a noi, che a causa della situazione personale in cui si trovano non possono certamente provvedere all'acquisto. Quindi ci uniamo a questo invito alla cittadinanza affinché contribuiscano con questo materiale così importante. Grazie. Grazie.